Oggi ci siamo svegliati con una bella giornata, che facciamo? Facciamo Cosa possiamo fare? Ci sono tante cose da fare Con questo sole un bel giretto in macchina da qualche parte con la nostra Mowgli Mowgli, mi è venuta un'idea Cosa? Andiamo Ok Questa è la nostra idea Si A voi che ne pare? Questa è la nostra idea 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 Allora, questo è il ragazzo che ci ha messo gli adesivi Si chiama Alessio, è stato di una bravura pazzesca Lo potete vedere E niente Siamo contenti Sì Ora ci autosponsorizziamo Esattamente Ora quando camminiamo tutti sanno chi siamo Ecco E dopo aver truccato la bambina Festeggiamo Esattamente Come possiamo festeggiare? Qualcosa di dolce Un bel cannolo Andiamo Un bel cannolo Ogni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si sente molto la ricotta. Ricotta fresca, morbida. È zuccherata ma non eccessivamente. Buono. Il costo è stato due ore e venti a cannolo. Scialda freschissima. Sì. E devo dire pure leggera. Sì. Anche la qualità è molto molto alta. Buono. Quanto è una mangiata.